Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, è sempre giovedì 2 giugno 2011, sono circa le ore 14, oggi è la festa delle forze al mare, ricordatevelo, va bene, siamo sempre alle solide cari amici, siamo sempre alle solide, io ho tanto rispetto per il fatto quotidiano sapete che tutti voi giovani andate matti per il fatto quotidiano, infatti il fatto quotidiano non per caso è in mano al mio editore, uno dei padroni, non conosco i termini giudici precisi, non so, so soltanto che Aliberti editore, cioè Francesco Aliberti è uno dei coproprietari del fatto quotidiano, uno dei coproprietari, quindi io ho tanto rispetto per il fatto quotidiano perché ho rispetto per il mio editore, Francesco Aliberti editore che pubblica tutti i miei libri, ha pubblicato, cioè tutti, quasi tutti, d'accordo? Però adesso mi succede una cosa strana, perché l'amico Milizia Metallica che conosce il mio debole Milizia Metallica che fa? Mi manda la prima pagina del fatto quotidiano di martedì 31 maggio 2011, Fatto quotidiano, adesso vattene, vabbè non c'entra niente questo, vedete tutto triste, in ogni caso io preferisco mille volte questa foto qua apparsa sul fatto quotidiano di Silvio Berlusconi che non quella che apparve sul quotidiano la stampa di Torino e di cui ho parlato nel video, crucifige, crucifige, qua vedi un uomo sconsolato ma sul quotidiano la stampa di Torino, scusatemi il termine, un cadavere che sembrava che ci avesse un buco di proiettile qua, vabbè andate a vedere il video crucifige, crucifige, insomma questa è una foto accettabile, d'accordo? Realistica ed accettabile, il fatto che in prima pagina l'amico mio, Milizia Metallica, in basso, vedete Gari, la pagina è piccola perché la mia stampante me l'ha stampata piccola, ma voi sapete che il fatto quotidiano ha tre dimensioni diverse, quindi la vedete questa pubblicità? Qua è piccola, è piccola ma se fosse in dimensioni reali io non sono riuscito a stamparla in dimensioni reali, è una bella pubblicità eh? Vedete, vedete? Ha scritto un libro, ha scritto un libro, inviacelo entro il 16 giugno 2011, chissà perché entro il 16 giugno 2011 e io caro amico Milizia Metallica suppongo che questa pubblicità ci sia da tanto tempo, suppongo che ci sia da tanto tempo e che da tanto tempo ci sia scritto, hai scritto un libro? In via ce lo vendo entro il 16 giugno 2011, oggi è il 2 giugno, quindi chi ha scritto un libro fa ancora in tempo a mandarlo, è la casa editrice Albatros, vedete? Perché c'è anche il simbolo di questo uccello, vero? Che si vola, che vola l'Albatros e io purtroppo è scritto così piccolo che non vi posso leggere i particolari, ma voi potete andare benissimo sul web, andate sul fatto quotidiano e digitate la prima pagina, la prima pagina del fatto quotidiano di martedì 31 maggio 2001, eh? Questa sì che è una foto passabile di Silvio Berlusconi ma non quella che ha pubblicato il quotidiano torinese alla stampa e sulla quale foto io poi ho fatto il video, crucifige, crucifige, ma abbiamo un minimo di sensibilità, d'accordo? Vabbè ma allora vediamo un po', adesso io vorrebbe sapere, vorrebbe eh, vorrebbe perché io in questo mio saggio storico linguistico ho detto che le lingue sono in trasformazione, si trasformano, ho già detto qua è sparito il congiuntivo, beh a Roma dicono vorrebbe, vorrebbe, vabbè è condizionale, allora io vorrei sapere se uno dei proprietari del fatto quotidiano che è appunto l'editore Francesco Aliberti è al corrente che sul quotidiano di cui lui ha una parte di proprietà appaia una pubblicità di questo tipo, ha scritto e se è d'accordo l'editore Francesco Aliberti su pubblicità di questo tipo, ma come? Il fatto quotidiano che è un giornale serio è un giornale serio il fatto quotidiano e di certo il fatto quotidiano sa come vanno le vicende editoriali a questo mondo, di certo il fatto quotidiano conosce questo mio pamflet Serafino Massoni editori e scrittori è apparso nel 2003, lo trovate gratis sul mio website www.massoniserafino.it lo potete leggere gratis, ma che cosa volete di più? leggere e scaricare gratis, è stato recensito anche dal Corriere della Sera è stato recensito con la firma del grande critico letterario Giorgio Derienzo, trovate pure la recensione sul mio sito andate a vedere e altre recensioni di questo pamflet editoriale cari amici, altre, altre ma come? Il fatto quotidiano sa di certo come vanno le cose a livello editoriale con tutti gli editori a pagamento di certo il fatto quotidiano sa che Umberto Eco ha scritto il romanzo Il pendolo di Foucault e nel pendolo di Foucault ha fatto una grandissima ironia di questo mondo editoriale si fa per dire a pagamento e ha coniato l'allocuzione autori proprie spese A, acronimo, APS, APS vi chiamava nel romanzo e io qua vi ho detto che in Italia ci sono 15 milioni di poeti o candidati poeti e ci sarà un milione di candidati romanzieri e queste cose le sanno tutti tutti le sanno tutti cari amici tutti anche le pietre le sanno e tu fatto quotidiano vai a istigare a istigare nei giovani che sono prevalentemente i giovani vai a istigare il loro desiderio di scrivere un libro quando sai che scrivere un libro presso la grande editoria è più è più difficile che trovare un posto di lavoro ma come il fatto quotidiano che sei tra l'altro diretto no, tra i vice direttori c'è pure il grande Marco Travaglio lo sai tu fatto quotidiano che il problema dei giovani di oggi è il posto di lavoro e tu gli vai a proporre questa pubblicità hai scritto un libro inviacelo subito e non c'è scritto inviacelo subito ma quasi comunque c'è scritto inviacelo entro il 16-6-2011 ma perché fatto quotidiano con questa pubblicità sei caduto così in basso perché stai ingannando i giovani perché fatto quotidiano invece non gli spieghi ai giovani certe cose magari non gli dice ai giovani tu fatto quotidiano ma che c'hai? c'hai da spartirci qualcosa? tu fatto quotidiano con questa casa editrice? che c'hai da spartirci qualcosa? è una domanda non è mica un'affermazione, è una domanda domandare come si dice è lecito rispondere quotidiano ma che c'hai qualcosa da che spartire? io non credo che il mio editore Francesco Ariberti abbia qualcosa a che spartire con questa casa editrice Albatross non credo allora hai avuto il permesso fatto quotidiano da uno dei tuoi editori di pubblicare una simile pubblicità per me per me per me per me soggettivamente non oggettivamente per me questo si tratta di di abuso abuso della credulità popolare mi pare che sia uno specifico articolo del codice penale abuso della credulità popolare ma perché non fai un bel servizio fatto quotidiano ma fai come Serafino Massoni ma fai un bel servizio sulle case editrici a pagamento che sarà contento anche uno dei tuoi padroni che si chiama e si chiama Francesco Ariberti che è anche il mio editore e qua c'è poco da scherzare io con Francesco Ariberti ci ho pubblicato uno dei miei romanzi più lucidi è quello che amo di più questo il marinaio delle Antille vedete Ariberti editore vedete cari amici poi questo non è Ariberti editore è Tullio Pironti editore ed è distribuito dalle messaggerie libri il tribuno egizio il tribuno egizio però dopo siamo tornati a Ariberti editore il quale ha pubblicato La lama e la rosa e il romanzo La lama e la rosa è piaciuto così tanto alla critica e ai lettori che poi il gruppo internazionale Ashet ha detto a Ariberti a Ariberti prestami La lama e la rosa che io Ashet ti porto La lama e la rosa in tutte le edicoli italiane nella grande collana i codici segreti della storia porca miseria i codici segreti della storia vedete vedete e mica è finito qua e poi l'ultimo libro è quello che sta alla base delle mie operazioni su web sempre Ariberti editore capito? La stippe del serpente che tutti voi ormai conoscete e beh io non credo che l'editore Francesco Ariberti che è uno dei proprietari del fatto quotidiano sia contento che in prima pagina appaia una pubblicità come questa boh boh io la chiamo io è la mia impressione io queste le chiamo pubblicità ingannevoli oppure chiamo abuso della credibilità popolare ma dai fatto quotidiano dai guarda i video di Serafino Massoni sulla sulle case editrici a pagamento dai retta Serafino Massoni anche a Umberto Eco che ha inventato la locuzione l'acronimo APS autori proprie spese ma dai fatto quotidiano diglielo ai giovani che se proprio proprio hanno voglia di scrivere un libro lo vadano a scrivere su web che non spendono nulla e stanno tranquilli felici e magari possono avere pure un ritorno editoriale e voi cari amici non mi dite ma tu perché hai pubblicato tutti questi libri perché già la cosa vi ho già risposto tante volte sì d'accordo ma quando io ho cominciato a scrivere non c'era il web capito perché io sono nato il 7 febbraio 1940 quando voi eravate ancora naci duri naci duri e nei tempi quando ero ragazzo come voi non c'era il web se uno voleva scrivere un libro doveva per forza rivolgersi alle case editrici ma se io tornassi indietro e verso i 30 ho cominciato a scrivere verso i 30 anni verso i 30 anni io avevo a mia disposizione il web io scrivevo sul web capito non ci andavo a perdere tempo scusate il termine con questa monnezza capito con questa monnezza e allora fatto quotidiano ma fai una bella intervista ma fai anzi un bel servizio giornalistico dove spieghi ai giovani ai giovani tutti i trabocchetti che le case editrici si fanno pagare sono tutte case editrici a pagamento queste qua capito eh se no e di che campino di che campino se no va bene e poi hai scritto un libro e vabbè ma tu fatto quotidiano che fai dai fiato alle trombe del povero duce Benito Mussolini che l'ha fatto scolpire nel marmo nel marmo là sulla cima del palazzo della verità il palazzo delle scienze non so come si chiama Leo di Roma ha fatto scrivere che noi italiani siamo un popolo di poeti di creatori di trasmigratori di poeti al numero uno c'è poeti come Nichi Vendola ecco perché ha tanto successo Nichi Vendola perché in Italia i poeti sono almeno 15 milioni come minimo e poeti votano tutti i pen Nichi Vendola e allora che fai tiri l'acqua al mulino del povero duce e tu hai fatto un quotidiano ma fai una bella un bel servizio giornalistico e magari intervista in questo servizio giornalistico pure Serafino Massoni che queste cose le conosce bene perché Serafino Massoni per pubblicare tutto quel popò di libri che ha pubblicato ha fatto anticamera tra i 20 e i 30 anni poiché Serafino Massoni era ed è un par di nu un par di nu non ha mai fatto parte dei salotti letterari capito eh mi raccomando Fatto Quotidiano mi raccomando invita i giovani a scrivere su web capito invece di pubblicare questa pubblicità e io non sono contento eh che uno dei tuoi padroni caro Fatto Quotidiano uno dei tuoi padroni che si chiama Francesco Liberti io non credo che Francesco Liberti sia sia contento che appaia questa pubblicità sul giornale di cui lui è una parte della proprietà in prima pagina tra l'altro chiediglielo fatto ah poi rispondimi Fatto Quotidiano rispondimi se uno dei tuoi proprietari cioè Francesco Liberti è contento che che tu Fatto Quotidiano pubblichi questa pubblicità pubblicità va bene me lo fai sapere Fatto Quotidiano e voi giovani glielo mandate questo video al Fatto Quotidiano eh guardate che il Fatto Quotidiano in fin di conti e ha come uno dei suoi padroni e c'è il mio editore c'è il mio editore cari e nel catalogo a Liberti c'è il marinaio dell'antille la lamella rosa poi pubblicato dalla casa editrice e scetti nella colana i coli segreti della storia però il proprietario di questo libro è sempre Francesco Liberti eh d'accordo e poi questo che pensate voi cari amici a mandare questo video al Fatto Quotidiano e a dire al Fatto Quotidiano che magari mi risponda mi risponda soprattutto sul fatto che i giovani vanno incentivati e se proprio vogliono scrivere romanzi non dico poesie romanzi ma vanno incentivati a scriverli sul web sul web non a spendere 5.000 o 10.000 euro per le case editrici a pagamento che già lo sapeva 20 o 30 anni fa Umberto che sono tutti a pagamento tutti a pagamento tutti a pagamento mandateglielo al Fatto Quotidiano questo video cari amici diteglielo diteglielo poi nella vostra letta di accompagnamento ha detto Serafino Massoni che tu Fatto Quotidiano devi fare un bel servizio giornalistico dove parli di quello che avviene nelle case editrici a pagamento Serafino Massoni ha detto anche che quando farai il servizio giornalistico potresti anche intervistarlo perché lui queste cose se ne intende e noi che lo seguiamo su web lo sappiamo che lui se ne intende Serafino Massoni se ne intende va bene va bene cari amici ma guardate che gioielli che sono saltati fuori dalla casa editrice a Liberti persino il gruppo editoriale internazionale Ascet ha voluto pubblicare questo romanzo storico nella collana i codici segreti della storia cari amici va bene io ringrazio l'amico Milizia Metallica che mi ha mandato la prima pagina del fatto quotidiano del 31 maggio 2011 lo ringrazio ringrazio tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni